Abbiamo paura. Abbiamo un sacco di paura di farci vedere fragili. Abbiamo un sacco di paura di parlare di qualcosa che ci tocca. Forse abbiamo alla fine dei conti paura di emozionarci davanti agli altri, di far vedere le nostre emozioni. Una cosa a cui però forse non pensiamo che può aiutarci a cambiare prospettiva, a farci capire come in realtà l'essere fragili è il nostro punto di forza. È ragionare sul momento in cui ci siamo innamorati di qualcuno. Perché in quel momento è successo di avere un debole per qualcuno. E quella debolezza è stata talmente forte da farci abbassare la guardia, da farci togliere la corazza, la maschera, da farci mostrare all'altro e all'altra nella nostra fragilità. Perché l'innamoramento è forse la dichiarazione di interdipendenza più potente che ci sia. È la dichiarazione che abbiamo bisogno di qualcun altro per essere completi, che da soli non siamo felici. Su questo penso possa essere sempre utile ricordare alle parole del buon Christopher McCandless, il protagonista del libro e film e storia vera, Into the Wild. Ho vissuto molto e ora credo di aver trovato cosa occorra per essere felice. Che dopo mesi e mesi di solitudine, all'interno di quel bus sperduto nella tundra in Alaska in cui è deceduto, egli scrisse La felicità è vera solo se condivisa. Penso che riflettere su quanto fragili e deboli siamo stati quando innamorati e quanto benessere, quanta gioia, quanta felicità questa dichiarazione di fragilità e debolezza ci ha portato possa aiutare ad arricchire le nostre conversazioni quotidiane con tratti di fragilità e realtà.